Siamo con il professor Pierangelo Sardi, che è Presidente del Consiglio Europeo Professioni Liberali e Consigliere del CML. E' quello che chiediamo, il ruolo degli ordini in Europa, in Italia in particolare, e nella società attuale? Visto che siamo in provincia di Latina, l'ordine di Latina è il più moderno d'Europa, perché con l'ordine dinamico rende trasparenti le specifiche competenze di tutti i medici alla popolazione, prima ancora che contattino un singolo medico. Credo che questa modernità venga dal fatto che l'ordine di Latina sa ispirarsi alla tradizione, che non è affatto in contrasto, si dice che gli ordini siano reazionari, guardano solo all'indietro, in realtà riescono a guardare al futuro quando sono consapevoli del passato. E quindi allora in prospettivo questi ordini, che poi c'è una polemica in atto, che chi vuole abolirli, chi no, ma comunque sono un'esplosione della professione, lei diceva nel suo intervento che una professione vuol dire un servizio agli altri. Le istituzioni dell'Unione Europea tendono a ignorare l'importanza degli ordini, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento. Per fortuna invece la Corte di Giustizia, a cui sono andati gli ordini dei medici, hanno ottenuto delle dichiarazioni di principio sulla differenza fondamentale tra l'attività professionale e le attività economiche. Queste sentenze sono importanti per tutti gli ordini professionali. Grazie, grazie professore. Grazie a voi. Grazie a voi.